Ciao, ora farò un disegno e bello provare a ripeterlo. Penso che sarà abbastanza facile. Sono sicura di potercela fare. Vabbè, ho capito subito. Invinato? Bella, non hai fatto quello. Vabbè, ho sbagliato un po'. Dove siamo? Ma questo chi è? In novembre, tre una volta. Beh, cominciamo. Sono felice di darvi il benvenuto nel mio laboratorio d'arte. Ciao. Eh, vabbè, a cosa ci aspetta? Mmm, i pennelli? A cosa ci servono? Non preoccupatevi. Ma per prima cosa dobbiamo girare la vuota. Mmm, il busante rosso. Posso premerla? Mi chiede cosa accadrà. Eh, le forbici. A cosa ci servono? Io ho già in mano. Deve scegliere con le forbici. Bello, voglio premere il busante prima. Eh, riuscire con la pittura? Mmm, strano. Non l'ho mai sentita le mie mani. Spero di riuscire. Non ho capito cosa sta succedendo qui. Vabbè, devo anch'io premere il busante? Eh, spero di to nero qualcosa. Cosa? Ma? Coda di pesce. Non questo. Puzza. È disgustoso. Vabbè, dai, cominciamo. Sennò si affichiamo. Eh, sono felice che sia di questo rumore. Questo è il vostro premio. Ciao, sono una serena che viene all'oceano. La cosa è vera, mi sembra. Una serena non può essere. Che bello che è. Penso di essermi innamorata a prima vista. Eh, sì. È adorabile. Non riesco a stare gli occhi da lei. Tesoro? Possiamo fare una foto? Sì, certo. Sono pronta. Eh, vediamo cosa c'è d'ora. Che bello. Conserverò questa foto per sempre. Ah, mi stai mettendo in ambarazza. Sono sopraffato le tue bellezze. Ti ho preso in giro, sono qui. Ma sei bellissima. Basta, romanticismo. Cominciamo a lavorare. Ecco, lavorate. Ok, devo sbrigarmi. Ma come inserirò con le forbici? È semplicemente impossibile. Ho un'idea. Sa cosa devo fare. Ah, bisogna disegnare. Ma devo tagliare. Risulterà qualcosa come un reame applicazione. Oh, che bello che è. Mi sono sicuramente innamorato. Ah, ce l'ho fatta. Ok, aspetta. Devo colorare. Anche se questo non sono i piarelli, ma penso di farcela. Ma c'è qualcosa che non va con i colori. Il pesce. Cosa devo fare con il pesce? Devo metterlo qui nei colori. Forse non puzzerà. Ma è dius gostoso. Però devo sopportare. Ma aspetta, se non devo disegnare con la coda, ma devo far così. Deve venire qualcosa di bello. Vediamo. E' come la coda della serena. Devo solamente fare il corpo. E io ho finito. Hai finito bene. Oh, sì. Ecco, ciao. No, mi sono dimenticato il disegno. Devo fare qualcosa. Penso che questo mi aiuterà. Forse riuscirò a fare qualcosa. Ma è così grande che non riesco a fare nulla. Cosa è successo? Chi ha fatto questo? Devo riposarmi un po'. Trovo. Cosa? Ops. Però ho un piano. Ok. Devo far così. Ciao, caro. Posso prendere la sua mano? Posso baciarla? Ah, che bello. Sei un gara d'uomo. Ho sì, da chiaramente qualcosa in mente. Hai ragione, bella. Ho un piano. Ma cosa stai facendo? Basta. Guarda cosa mi hai fatto. Scusa. È quello che è necessario. Sembra che il piano di Austin è andata male. Non vi preoccupate. Ho quasi finito. Ecco. E prendo il foglio. Toglilo. Ma no. Dov'è il mio trucco? Mi sembra di essere nudo. Eh, cosa è successo? Stop. Basta. Basta. Ecco, ce l'ho fatta. Abbiamo finito. Potete vedere i nostri disegni? Che bello. È vero. Mi piace. Tu. Ti prendo. Adesso vai via. Ok. Però dammi il telefono. Ti chiamo. Vabbè. Questo significa no. I miei armi sono tesi al limite. Spero che il disegno ci rallegra. Cos'è questo io? È terribile. Ma ci ho provato. Ingrote. Bella. Mostra il tuo lavoro. Fa vedere. Ecco. Gli piace? Finalmente sembri a me stesso. Finalmente ho vinto. Dai, le regalo questo. Grazie, bella. E ora potete scadare la foto. Dove sei la foto? Sorridi? È fantastico. Che bello. Sognavo questa foto. E che questo è per me? Oh, che bello. È il meglio giorno della mia vita. Andate via. No. L'ho persa. Il mio cuore è spezzato a pezzi. Questa è la cosa. L'ho per sempre. Cos'è? Mi senti cadere? E perché ho la coda? Sono una serena. Oh, no. Perché l'ho presa? Forse dovevo usarla. Qui, vabbè, è noioso. Ancora un po'. Ed ecco la sua ruota. Schiacciate il bottone. Ma cos'è questo? Bella, vai per prima. Io ho la bocca. Cosa significa? Deve dipingere con le labbra? Vabbè, non è la migliore scelta. Vediamo cosa ho io. Il gomito. Ma questa è ancora più strana. Com'è che dovrò ingegnare? Ho paura. Di bisogno di cosa devo prendere io. Però è interessante. Il naso. Deve ingegnare con il naso. Penso che sarà divertente. Adesso saprete che strumenti avete e adesso conoscerete il premio. Oh, vogliamo vederlo. Aprete la scatola. Vabbè, l'avremo più tardi. Dopo che avete vinto. Vabbè. Cos'è più interessante? Dovrò ottenere il naso. Al cento per cento. Non deludermi l'amico. Ho il naso nero. Divertente. Vediamo come funziona. Scusa va bene. È quasi pronta. Beh, se lei riuscirà a disegnare con il naso, io riuscirò a disegnare con le labbra. Ehm, cominciamo. Adesso baccerò questo foglio. Mh, che bello. Avverò un disegno da mille baci. Siete fortunati, eh. Io non so come disegnare con i gomiti. Ha spesso di metterli così più vicini. No, non funziona. Ecco. Ecco. Ma perché? Ma scusa. Ma forse così funzionerà, eh? Ehm, a dire il vero, non è un granchè. Beh, assomiglia a una macchia nera. È Lucia a foglio. Ma Lucia non sei più bella. Manca lei. Ehm, sono così dispiaciuto. Devo fare qualcosa. Quasi se io non riuscirò a vincere. Pensa, Austin. Ecco. Non so come vincere. Scusa, Bella. Ma devo aggiungere la colla. Bene. Bene. Vediamo come disegnerà. È per Lucy il pepe nero. Sono sicura che lo farà sormicire. Mh, quanto furbo che sono. Ora ho tutta la possibilità di vincere. E adesso aggiungiamo il colore. Prenderò l'arancione. Ma perché non riesco a distaccarmi dal foglio? Cosa sta succedendo? Aiuto, che soglievo. Oh, oh. Ora le mie dite sono attaccate al disegno. Come posso toglierle? Bene. Il piano sta funzionando. Vediamo cosa sta facendo Lucy. Cos'altro è questa? Ci sono dei granelli nella mia pranice. Quanti? Ma questo mi fa venire voglia di star non tira. Riesco. Ma cosa? No. Cos'è questo? Ma cosa sto scendendo? Ecco, ho fatto. Ho eliminato i concorrenti. Ora non riesco a modificare leggermente il tuo disegno. Aggiungerò accenti luminosi. Altrimenti colori ne sembra... Beh. Cupo. Avete finito? Sono pronto. Guardate questo disegno è geniale. Il mio disegno è completamente rovinato. Eh sì, non sembra un granché. E gli altri? Sono incollata al mio disegno. Non posso mostrartelo. Incollata? Come è possibile? What the? Ok, vediamo cosa ha Austin. Adesso non è sì. Sembra un po' cupo. Ma hai vinto comunque. Che bello. Sapevo che il mio premio sarebbe stato. Bella. Lascia che ci aiuta. Oh, che dolore. Va bene. Congratulazione Austin. Apre la scatola. Non vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro. Sono sicura che c'è qualcosa di speciale. Sembra la torta. Mmm, che bello. Adoro i dolci. Sì, è decisamente una torta. Mmm, che bello. È il miglior regalo, mi sembra. Che sapore. Ma cosa sta succedendo? Perché l'hai fatto? Sorpresa. A me sembra divertente. Ecco, prendi la Austin. Saprai come incontrare i tuoi amici. Oh no, ma sono incollata. Si era più forte. Evviva, siamo liberate. Avrei posto la torta deliziosa. E non mi penti di niente. Wow. Ora, sai per certo che il segnale si rallegra. Pertanto, noi amici di tre stessi vi consigliamo di raccogliere pennelli e colore. C'è un altro modo per farci sorridere. Basta accendere il nostro canale. Ci vediamo. Ciao, ciao.